Salve a tutti, ho voluto fare questo video per riportare alcune esperienze negative che ho avuto sul sito di dota.it In pratica cosa è successo? Dunque, qualche mese fa in dota hanno aggiunto le gilde che per il momento, detta così, non servono a niente servono solamente a dare la possibilità di aprire il gruppo alla gilda cioè voi siete con un amico e volete avere qualche altra persona che si unisce aprite il gruppo alla gilda e quindi quelli che sono in gilda possono vedere il gruppo vostro che ha aperto e si uniscono bene, quindi diciamo che era una fase ancora iniziale e si possono mettere alcune descrizioni e cosa è successo? Io con un amico così, diciamo in fan, cioè non era niente di serio che volevano fare abbiamo detto dai creiamo, facciamo dota itano per raggruppare tutti gli italiani in modo da non avere le liste infinite di giocatori in steam perché la prima cosa che fai se trovi un italiano in dota è aggiungilo perché ne conosci pochi, ne trovi pochi e anche se magari se lo nabbi o altro dice almeno gioco una partita con chi mi capisce e mai dici non sei tanto bravo anch'io pari no? alla fine è così ok abbiamo fatto questa gilda e cosa è arrivato? sono arrivati alcuni, diciamo di essere collaboratori del sito dota.it a dire che andava eliminata che non potevamo crearla né farla perché ce n'era già una che è dota.it che è l'unica gilda rappresentata da drake faccio degli screenshot che hanno scritto e quindi che il discorso era insomma come fai tu a creare una gilda quando noi siamo quello ufficiale perché abbiamo il sito ecco in realtà non è che se uno è un sito allora diventa un ufficiale ok perché è un sito ragazzi andiamo tutti su wordpress spendiamo il dominio a 9 euro all'anno e possiamo anche farci una gilda ufficiale di termosifoni voglio dire se basta avere il sito comunque vabbè ho iniziato ovviamente hanno iniziato scusate a appunto a fare un po' di diciamo flame per questa cosa qua perché? perché semplicemente perché hanno fatto flame perché su dota.it nella loro gilda nella descrizione hanno i link per i vari canali no? e tutto il resto quindi diciamo che loro hanno anche un modo per sponsorizzare sia il sito sia alcuni canali no? che fanno magari i gameplay e questo va benissimo nel senso se uno lo vuole fare è libero di farlo no? non è che dico niente però è inutile che poi vai diciamo a rompere le scatole perché un giocatore qualunque perché potevo essere io potevo essere un altro potevo essere qualunque altra persona ha fatto una gilda con nome dota.ita cioè chi sei tu ecco e con questo sono arrivati insomma a fare questi flame allora io ovviamente cosa che cosa che si fa insomma quando uno cerca di proibirti una cosa no? che vuoi fare oltretutto su un gioco no? la prima cosa che mi viene è fare l'esatto opposto quindi se uno mi dice no tu non puoi farlo che l'hai io è la prima cosa che ti faccio no? quindi mi sono fra virgolette impegnato a cercare altre persone che volessero entrare no? che magari ricerchino forse lo nuovo perché qual è il problema di dota? che non c'è un livello di giocatore medio perché in dota essendo una mod di warcraft 3 c'è la gente chiamiamola pro perché viene da dota 1 ok? e quindi conosce già la mod e dota 2 è semplicemente una continuazione e invece quelli nuovi che fatti vedete l'hanno scoperta perché adesso è uscito fuori dota 2 quindi lo vendono magari su steam eccetera sia per l'international sia per tutti insomma quindi non c'è il giocatore medio si deve cercare di insomma unire e livellare i due gruppi no? alla fine infatti ci sono tanti giocatori diciamo esperti che erano dota 1 che mi hanno detto si è un ottimo progetto insomma di avere la giuda di italiani perché alla fine è comodo avere gente che anche ti capisce perché perlomeno quando gli insulti lo capiscono e non sono russi per capirci però ovviamente ma anche loro hanno detto che mentre il livello è molto basso tra gli italiani perché ovviamente non è così diffuso e comunque tornando al discorso ho continuato a farla crescere e sono arrivati a a continuare diciamo a far flame e nonostante comunque ci sia gente diciamo che giocatori normali nel senso che giocano non mi frega un cazzo di giz eccetera ma hanno ringraziato perché comunque hanno trovato grazie a questa gilda hanno trovato le persone con cui giocare per esempio uno mi ha scritto è ho trovato altri tre amici e mi ha fatto tre partite e vinte tutte quindi con l'entusiasmo di chi mi ha trovato qualcuno con cui giocare invece che giocare da solo e cosa hanno fatto qui di dota.it mi hanno espulso dal gruppo di steam che non serve a niente però mi hanno espulso dal gruppo di steam di dota.it dunque vorrei ricordare che loro cercano di identificarsi come una community mi sembra proprio che non sia così insomma quindi ognuno trarà le sue conclusioni io ho voluto solamente riportare alcune cose nel senso crea una gilda e loro appunto non vogliono perché togli tutti la gente potrebbe vedere invece i loro link le loro cose i loro canali di twitch eccetera io qualcuno potrebbe dire anche tu però hai un canale youtube e quindi anche tu farei lo stesso no io ho semplicemente scritto per invitare qualcuno iscrivete a qualche moderatore o a me e poi ho scritto alla fine cosa serve perché appena uscito non c'era nessuno che diceva cosa serviva ho scritto semplicemente che uno fa apri gruppo e apri gruppo alla gilda file perché sinceramente non mi interessa anche perché questa cosa qua è nata per una per un gioco cioè per una stupidazza voglio dire appena uscita la pace non mi interessava niente a me avere una gilda e quindi non mi interessa neanche farcene la pubblicità o mettere link di chi che sia insomma nemmeno miei perché non mi interessa perché sono convinto che la gente che è in dota se entra in dota è per giocare non ne frega un cazzo di andare a vedersi capito link o scrivere sul forum cioè se il tempo è poco gente o mari che lavora entra in dota ci fa la sua partita non è che c'è la staglia a spammare 30.000 canali o altro quindi secondo me questa è la mia opinione ad ogni modo io qua appunto ho messo ho messo gli screenshot di quello che è successo voglio solamente appunto riportare che dota.it non è la community italiana che vorrebbe apparire quindi insomma io vi dico su con le rece con questo non voglio dire che i giocatori che quelli che sono iscritti adesso cioè non è una cosa che ho detto contro i giocatori uno può essere iscritto o non è essere iscritto questo è semplicemente delle opinioni personali che mi sono successe ecco e magari dopo c'è qualcuno invece che magari è sul sito dota.it e si trova benissimo l'hanno aiutato e tutto ecco insomma quindi questo è semplicemente da un parere personale che alcuni mi hanno chiesto insomma perché dicono ma ci sei tu su dota.it se dota.it insomma non più comunque che mi pare che all'inizio qualcosa avevo scritto ma dopo per come sono state le cose ho detto no no qua è meglio che lascio stare se questo è il clima insomma e quindi abbiamo diciamo la cosa ci è risolta fra virgolette così quindi vi dico dota.it questa gira che ho ha salito 600 persone che dove ce ne sono di più insomma quindi se volete entrare perché vi servono persone volete conoscere altre persone per non so far team ovviamente in mezzo a tutto questo ci sguazzano diciamo quelli però che sanno già con chi giocare e entrano in gira magari solamente per raschiare qualche oggetto no qualche giocatore nabbo che non so magari cosa ha per le mani e dice basta cosa ha vinto come oggetto aspetta che chiedo di scambiarglielo no alla fine insomma tutti ci guadagnano a loro modo e ecco insomma quindi questo è quello che volevo riportare per quanto riguarda il dota.it io vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti